ciao sono luna rosa e oggi volevo augurarvi un buon anno ma soprattutto un buon anno molto molto fortunato come potete vedere ecco qua questo è il mio porta fortuna per voi vi rinnovo di nuovo gli auguri e che sia veramente un 2023 colmo di felicità e fortuna ciao a tutti e ancora buon anno da luna rosa